Che effetto le fa una barca a Milano vicino alla triennale? Ma un bel effetto, anche questo è design, è molto oltre a design però certamente design e quindi in questa settimana e di fronte al triennale che è il tempio e dovrà essere sempre più del design e dell'architettura direi che ci sta benissimo, se poi vogliono lasciarla qua per me va bene. Lei va in barca? Avevo una barca a vela quando facevo una vita più normale, poi un po' a malincuore l'ho venduta però mi è rimasta la passione e una delle esperienze più belle della mia vita è stata un'attraversata oceanica in barca a vela 16 giorni in mare, quelle cose che ti ricorderai per sempre. Che andava in barca a vela non lo diciamo a Paolo Vitelli. No, no, lo so, è d'altro canto però bisogna sempre dire la verità, mi hanno insegnato che bisogna sempre dire la verità ma loro sono un'azienda di grande qualità ma soprattutto che è italiana e da questo punto di vista quindi, anche solo da questo punto di vista va il mio applauso al di là che comunque è anche una grande azienda in un settore penalizzato per tanto tempo ma che merita molto di più. Poi in questo momento in cui io viaggiando molto per il mondo vedo che il prodotto italiano, la qualità italiana, la creatività italiana piacciono sempre di più, credo che sia veramente importante avere un'azienda come Azimut Benetti.